Ora nelle ore Eh si, posizione di partenza gente Maddonato decimo, attenzione Quanto cazzo parto io? Oh terzo Oh mamma mia, orgasmo gente E' orgasmo, siamo qui sulla griglia di partenza Bella a tutti ragazzi qui Mr. Potter 217 Siamo su Formula 1 2015 Siamo con Walter Ribotas sulla griglia di partenza qui con me Amnesia, sì, ecco io sono per lui E' questo Eh, questo Sì dai Basta Siamo cara, subito Quindi cerò male lui e faccio No tasso Sì, attenzione Attenzione, attenzione Partiti 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 Guardi Partiti 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 che se vede in 3d traverso fati inculare cosa che ti sto dicendo questa storia ha detto che non hai capito che devo ripetere a che pista hai San Paolo, Brazile ho proprio preso il San Paolo e Davide non ho mai tante io questa pista e se me lo dicevi prima ma perchè ti piace così tanto? ah boh non lo so mi ci trovo bene diciamo che è un po' reperibile sessualmente target carburante ma io se scoda sta macchina però ce la vedo leggermente male no, non caricare lo dinamico, i freni volevo io, beh, aiuto non gira venenciamento posteriore ma io non vedo l'ora di usare il volante con sto gioco quando è che è l'usare? ah, appena prendo il convertitore andiamo a mettere la miscela giusta, aiuto posto testa di cazzo eh, c'è l'interferenza eh, c'è l'interferenza nel culo c'è l'interferenza eh, c'è l'interferenza il distarco di 3 secondi mancano soltanto 3 giri quanto guadagno faccia di culo quanto guadagno? eh, non lo so, non me l'ha detto pilota dietro gay hai dietro Hamilton vi separano 3 secondi mancano soltanto 3 giri ma gli dici quanto cazzo guadagno? testa di cazzo il segnale è disturbato ma non è il segnale è disturbato sei tu che sei disturbato neanche nel culo quanto guadagno su Hamilton? testa di cazzo ripeti, abbiamo problemi di ricerca eh, sì, ma non nasconderti dietro a ste cose Rosberg, giro veloce guarda cosa mi tocca pilota dietro non ho capito, ripeti e non hai capito pilota dietro il distacco di 3 secondi mancano 2 giri il prossimo sarà l'ultimo il prossimo sarà l'ultimo grazie, informazione utile prossimo cazzo che nel culo che prenderai sarà l'ultimo condizioni veicolo addirittura condizioni veicolo condizioni veicolo i freni sono freddi devi portarli a temperatura spingi sul pedale per un paio di curve e spingi sul pedale ma spingi sul tuo di pedale 2 secondi e 8 eh, ho perso un po' sto giro ah, mi scela mi scela obesa subito dunque hai perso il giro prima eh eri a 2 e 2 prima serio? si penso di essere a 3 e 2 no dai errore no, sto finendo anche la benzina fammi un bocchino ti ho detto fammi un bocchino ti ho bene hai dato 6 secondi e 6 ah guardatelo guardate quanto è reale sto gioco soprattutto adesso che mette lino tedesco con il pilota finlandese proprio cosa bellissima sono un po' polemico oggi gente abbiamo notato puoi provare anche tu con la comunicare con l'ingegnere no no grazie però mettiti la cuffia che ti riesci a sentire senta che faccia ecco aspetta però farebbe un po' quadrato sì sì ma io devo mettere tutti gli aiuti tuttore metti anche la frenata sì sì metti tutto tutta la vuoi la frenata ma come cazzo vuoi di frenare no il meglio sennò ti frena del tutto vai che difficoltà è? massima eh sì ma arrivo ultimo qui ragazzi non c'è neanche gusto poi io sta pizza non l'ho mai fatta frena un pochino io ora si tampona subito e la cosa giusta guarda che ritardati di me aspetta scusami ma sono dei ritardati poverino che ritardati di me nooo che sa fai tranqui ma sono infiniti tanto vaffanculo via ragazze addirittura tanto io non arriverò mai prima neanche se mi pagano dell'oro se ti pagano dell'oro penso che prima ci arrivi sei etti ma solo un milligrammo vale 50 euro sai vittoria molto pulita allora sono appunto per il tutto zio po mamma ma 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 perché c'è la ferrari in seconda posizione che quella di raicolen trittura va sta andando per il momento in zona podio in una pista in cui c'è pover povere alcool il che è una novità perchè raicone l'ha beccato tante volte ubriaco serio sì anni fa tanto io ma se ne ho attaccato alcuno però l'effetto giro più veloce sì 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 beh hai fatto un giro un giro intero in testa in modalità leggenda che stava no 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 di auto ha una trazione posteriore che la fa sgossa la merda, finchia ma ce li ho attaccati al culo, se io pensavo di venire attaccati, si, porche, non sai cosa ti perdono, 1,15 hai perso solo 7 decimi sul giro più veloce, hai perso solo 7 decimi sul giro più veloce, ah beh cosa vuoi, sei la leggenda, non sei mica difficile, scusa perché c'è vette dall'interno che tentò addirittura il sorpasso su, 3 piloti insieme, lui che era quarto in colsiviche ha cercato di sorpassare addirittura il nostro, il nostro amnesia, sta amnesia, oh, figlio della merda, quanto sono ritardati a fare scarparsi in giusto giorno, il nostro amnesia, io sarebbe bisogno di 7 pannolini in questo momento, seriamente, cioè, la scherchi ritardati, lo so in 3 fa, si, io che dico tanto a Raikkon, ma anche a te bisognerebbe fare il testo delödoncino, proprio, santosono tutti i libChrotesi video fino al 17esimo, sono tutti i libORTi ma sony guida, Prius stato di pennezza, double the ternes, no massaerez, buono experiencing ci hanno fatto addirittura quattro giri in testa attento a Vettel ho appena detto eh poi dici che sono io il bufo su FIFA adesso su pro diventi mia per scudarmi non ha successo niente, non conosce niente si forse sei un assassino ma Vettel dove è finito? è il sedicesimo tipo adesso no, forse anche più indietro ah è ultimo serio? si questo qua è Vettel però io ho seguito il movimento ci sta, ci sta che non è che guardi già quello squartatore altro che Vettelibotters non 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 è ecco che mi sopraffidò, ma se non è che c'è il DRS invece non mi supera ma c'è intanto la mercedes che fa al sorpasso di Felipe Massa, attenzione perchè cosa farai? stazio scusa, poverino è sbattuto fuori c'è ne hai dato spazio neanche per cambiarsi le mutande è una cosa giusta, Raikon è stato dietro che ti ammazza la famiglia e sette azzardi a provare il sopposso, no poverino è un mimo di un anno serio? sì, è meglio che è una caratteristica di bambini Robin Mattias e Raikon che cosa fa saperlo? ehm, ho un po' l'ha detto lui piglia di vivi così salda fuori il codice fiscale è un po' l'ultima curva di questo l'ultima curva di questo l'ultima curva prima di se non è che adesso c'è la rettilinea dove Kimi può tentare la scia però insomma no, non parlo attenzione perchè ha vinto oh yes, leggenda signori, che fenomeno, con 1,14,5 fa 1,14,5 fa, prega basta, certo, non c'è più niente da dire, fenomeno non discusso perché poi si può mirare l'inno tedesco, però perché l'inno tedesco lo senti anche con tutti i piloti qui e siamo arrivati alla fine del video un bravissimo Valtteri Bottas vince la gara di oggi complimenti a lui e alla Williams per la meravigliosa performance e rimanete qui per altri video solo qui sul canale di MrPatrack217 ciao ciao